Bring it Bring it Ciao ciao C'è vero Anikita oggi noi facciamo pancake art e festeggiamo 50.000 scrullitenni Grazie ragazzi che siete O forse anche di più perché dopo un po' iniziano a cambiare eh Eh sì certo ma quando guardate i video probabilmente sarà un po' di più Grazie ragazzi che siete iscritti vi vogliamo bene vero Anikita? Sì Dai mandiamo i nostri cuori Muah muah nostri bacini Manda un bacino dai Sì Oggi andrò così a coro Cucatura cattura Cucatura cattura Canta Cucatura cattura Cucatura cattura Cucatura cattura Cucatura cattura Allora Chiude le occhi Qui Oh Ah Ho Ah 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 no dai allora iniziamo tu puoi togliere papà? allora il nostro primo round Nikita pizza Steve e mamma pezzo, l'olpezzo allora guardate ragazzi quale pancake vi è piaciuto di più l'olpezzo o la pizza Steve di Nikita secondo round Nikita che ha piaciuto il giorno ciao a me Spongebob Grazie mille è caduta nei prodotti tossici e lì è venuta con la faricella verde non hai buoni manticorpi secondo round spongebob contro giorgia che non è facile disegnare scrivete chi è che ha vinto ragazzi vediamo che ora disegno libero questo disegno libero dedicato tutta voi a nostri 50.000 iscritti speriamo che arriviamo a 100.000 abbiamo fatto la nostra terza round per i nostri 50.000 iscritti auguri a tutti noi e tutti voi da nikita tanti auguri a noi tanti auguri a voi tanti auguri a tutti noi tanti auguri a noi ecco i nostri tappeti si abbiamo fatto i tappeti non incommestibili per camera da letto ragazzi votate chi ha vinto terza round dei nostri 50.000 iscritti allora vi salutiamo e iscrivetevi iscrivetevi capito? laicate 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti